buongiorno a tutti eccoci all'appuntamento con onda vitale news questa volta volevo presentarvi questa riflessione come dicevamo anche le volte precedenti sembrano tutte cose apparentemente banali ma che sono importantissime in realtà e soprattutto in un periodo complesso come questo aiutano porci l'attenzione aiuta a vivere bene quindi ecco perché ci teniamo a fare questi queste pillole diciamo di vita oggi riflettevo sulle relazioni tra persone su come sia importante coltivare dei rapporti delle relazioni armoniose con amici con persone che incontriamo quotidianamente anche sconosciuti spesse volte soprattutto in quest'ultimo periodo è perché è quello che stanno cercando di fare cioè di separarci di metterci uno contro l'altro e effettivamente diverse volte questo riescono a farlo perché umanamente c'è chi si schiera a favore di qualcosa c'è chi si schiera contro c'è chi magari discute con la persona che non è d'accordo con lui o con lei si creano magari degli attriti dei dissapori delle critiche alcune volte si tende a giudicare e quindi questo crea appunto questa separazione tra individui ma se si va appena al di là di questa di queste cose che alla fine sono stupide banali perché a prescindere che ognuno è libero di pensarla come vuole e di seguire la via che preferisce e che sente più sua noi non possiamo andare a imporre nulla a nessuno anche se alcune volte è chiaro che come dicevo prima umanamente ci viene da magari dire questo non capisce niente come fa a non rendersi conto e oggi più che mai questo conflitto viene alimentato in realtà poi se si va appena oltre questo gioco delle parti ci si rende conto che siamo tutti fratelli che abbiamo tutti abbiamo tutti bisogno di attenzione di amore di cura di un sorriso quotidiano che tutti stiamo affrontando i nostri tra virgolette demoni abbiamo i nostri problemi abbiamo le nostre fragilità perché appunto siamo umani e quindi tante volte basta incontrare il sorriso di uno sconosciuto in un momento in cui magari ci si sente un po così per sentire questa solidarietà e ci si sente contemporaneamente stupidi magari nell'aver criticato prima qualcuno perché la pensava in modo diverso da te o perché non era allineato con il tuo modo di vivere e quindi ecco questa è una riflessione che facevo di come sia importante coltivare tra noi esseri umani indipendentemente appunto dal modo di pensare da quello che è il contesto sociale da dove ci troviamo da quello che uno sceglie di fare la compassione e la cooperazione tra di noi perché è questo che fa la forza è proprio l'unione che fa la forza ma in tutti i sensi quindi cerchiamo di guardare al nostro prossimo ora più che mai non come un nemico o come qualcosa di estraneo come qualcosa da combattere da tenere lontano ma al contrario come un essere umano desideroso di contatto di amore di considerazione di attenzioni perché in realtà siamo tutti tutti veramente fratelli e tutti abbiamo bisogno alla fine delle stesse cose e basta poco per farci sentire bene e in unione con l'altro vi auguro una buona giornata e alla prossima onda vitale news ciao